Il problema non è che ci si telefoni o che ci si possa vedere, il problema sono i contenuti. Oggi i contenuti, come dire, nella bulimia di maggioranza che si è manifestata in questi giorni è difficile trovarli contenuti da qualche parte e renderli compatibili. Su attività di governo mi pare che ci sia qualche problema perché c'è un partito di maggioranza che chiede una verifica. Sulle riforme mi pare che ci sia qualche problema perché noi a questo punto dovremmo interrogarci sul percorso successivo delle riforme. sull'elezione del Capo dello Stato, guarda caso, diventa determinante il voto di Selle che fino ad oggi è stato fermamente all'opposizione sia delle riforme che dell'attività di governo. Quindi c'è qualcosa di anomalo in tutto questo e penso che bisognerà mettere un pochino d'ordine in questa confusione.